Dovremmo avere tutti la responsabilità di abbassare i toni e di capire che le istituzioni sono, salvaguardare le istituzioni e l'interesse di tutti, maggioranza e opposizione. Devo dire che la cosa che mi colpisce è che fino all'altro giorno se l'accusa era che non c'era la maggioranza, oggi c'è l'accusa che c'è la dittatura della maggioranza, credo che il problema sia lavorare seriamente, garantire alla maggioranza di poter fare come le garantisce la Costituzione e portare le leggi a provarle, all'opposizione di fare la giusta e legittima opposizione.